Io entro in Banca Mediolanum nell'ottobre del 1998, entro ovviamente come Family Banker, nel 2003 inizio la carriera manageriale diventando quindi supervisore, nel 2009-2010 decido di far seguire la struttura da un mio collega e di intraprendere, provare a intraprendere la carriera del private banker. Ho nel 2010 i numeri per essere poi private banker, dal 2010 ad oggi sono private banker. In questo momento sto lavorando per poter diventare nel più breve tempo possibile wealth advisor e quindi questo è un pochettino il mio percorso in Banca Mediolanum. Quando un tempo si utilizzavano ancora le agende cartacee, la frase che io all'inizio di ogni anno mi scrivevo nella prima pagina era se fai sempre le stesse azioni ottieni sempre gli stessi risultati. Ora le agende cartacee non si usano più, ma questa è la frase che più mi rappresenta se tutte le volte, se tutti gli anni voglio cercare di raggiungere risultati migliori. Beh, partecipare allo spot di Banca Mediolanum è stato innanzitutto motivo d'orgoglio, perché che la banca abbia scelto me per rappresentarla è qualcosa di veramente straordinario per me stesso. E in più è stato qualcosa di molto divertente, un'esperienza nuova, un mondo sconosciuto, vedere dall'altra parte come si costruisce una pubblicità, potenzialmente anche un film, eccetera, è stato qualcosa che non immaginavo. Mi sono divertito molto, due giorni nuovi, due giorni diversi, un'esperienza che ne basta davvero la pena. Ma io consiglierei a un altro consulente finanziario di lavorare in Banca Mediolanum, perché in Banca Mediolanum davvero non sei mai da solo. Non sei mai da solo perché c'è sempre un collega, un manager, un professionista in sede o con te, in ufficio, che ti può dare una mano in qualsiasi amico. Che sia un investimento, che sia il credito, che sia la protezione, c'è sempre qualcuno che può esserti di aiuto. Quindi quello non sei mai da solo. In più in Mediolanum abbiamo una corporate university interna nostra che ci forma dal primo giorno in cui noi entriamo in Banca Mediolanum per tutti gli anni successivi. Ne siamo, abbiamo molte ore di formazione tutti gli anni e la formazione lo era prima, ma soprattutto adesso, un elemento fondamentale nel rapporto col cliente. Perché il mondo finanziario sta cambiando, sta cambiando molto velocemente e noi abbiamo la necessità e il dovere nei confronti dei nostri clienti di portargli sempre le novità, di portargli sempre le normative, di portargli sempre quello che sta cambiando in questo mondo. E con la corporate university noi abbiamo questo tutti i giorni se vogliamo.